Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono rallentamenti per materiali dispersi tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna. Segnaliamo che in direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di gasolio per un guasto. Fare attenzione per nebbia banchi segnalata sul tratto appenninico tra Roncobilaccio e Aglio. In A12 fare attenzione per vento forte segnalato tra Sestri Levante e Livorno. Sulla Fipilì lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!